Wella ragazzi, ciao a tutti, ben tornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek Ragazzi, come sempre vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questo e anche tantissimi altri giochi scontati Vi ricordo anche che in descrizione ci stanno i miei social, la lista con le mod che uso in questa serie E poi vi vado anche a ricordare che naturalmente se non siete già iscritti al canale fatelo e se non avete attivato la campanellina fate pure quello Altrimenti YouTube non vi manda le notifiche, ok? Allora raga, dunque sto andando avanti con la semina perché mi sto sempre a dimenticare di questo terreno che non è neanche mio, l'ho preso a noleggio Quindi vai, sorgo sul terreno 25, oggi comunque abbiamo cose interessanti da fare Vabbè che tanto lo sapete già perché sta scritto nel titolo Ragazzi vado a ringraziare la Giants che mi ha dato in anteprima il DLC Antonio Carraro Quindi in pratica lo andiamo a provare con un po' di anticipo Il DLC esce il 22 marzo quindi tra circa 4 giorni Allora Antonio Carraro Praticamente sono tutti trattori diciamo piccoli per uso, per utilizzarli insomma con... Che stavo a dire? Allora, da capo Sono trattori piccoli che li possiamo utilizzare per l'uva e le olive Ma è tanto complicato eh, no? Perché quando io devo parlare e poi la mia lingua va a destra, a sinistra, non si capisce niente Vabbè, comunque insomma c'è tanta bella roba in questo DLC ragazzi Tanta bella roba Cominciamo da 7500 euro Guardate qua quanto è carino Cioè dice non avete soldi? Tiè, 7500 euro Tieni 35 cavalli Cambio manuale 18 litri di serbatoio Velocità massima 21 chilometri orari Una tonnellata e 100 Il peso, 1100 kg in pratica pesa questo trattore Pare davanti che c'è i dentini quasi Vabbè, ci assomigliano Vabbè, comunque a parte quello insomma Sono tanti i trattori eh Sono tanti, sono tanti Questo Questo qui cioè, ma che bello Per trasportare Probabilmente, credo, no? Penso che questo trasporta O è con i nastri Lo prendiamo e lo scopriamo Anche se a dire la verità non è periodo per Non è periodo di uva Cioè c'è da fertilizzarla Vabbè, vabbè Piattaforma Vabbè, ok Così per metterci i pallet Probabilmente Ma io questo lo prendo lo stesso Perché lo trovo fico Ampliamento Configurazione ruote Strei No, pneumatici larghi Standard E basta Allora, sono curioso Però, vedi Non c'ho i soldi Non c'ho soldi Soldi Vai, vabbè Non è che mo li vado a comprare tutti eh Alcune cose le voglio provare Altre cose no Quindi Lo prendiamo standard Allora, dunque 19 cavalli Vabbè, per trasporto questo Velocità massima 30 chilometri orari 30 litri di serbatoio Ah, ecco, vedi 890 litri E la capacità Di questo serbatoio Ok Però, vabbè Uno Se uno vuole così Lo trasforma Per trasporto pallet Ma, vabbè Che tanto anche qua Vabbè, no Però non mi dà sicuramente i nastri Vabbè, insomma Compriamolo, va Poi Ecco Terzo trattore Vediamo un po' Anche qua Possiamo Cambiare le gomme Doppie ruote O standard 38 cavalli Cambio Variabile Continuo 35 litri Di serbatoio 28 chilometri orari 1300 chili E il suo peso Ora, ovviamente Ragazzi, ve lo faccio vedere Da qua Non lo vado a comprare Perché Non mi servono Così tanti trattori Ovviamente Voglio provare L'ultimo trattore Quello più costoso Allora Poi c'è questo Ovviamente I prezzi vanno salendo C'è questo qui Tre punti davanti Se li volete Con addirittura Anche il peso O no Ah, zavorra Eccolo qua Col peso davanti Se volete Oppure senza Tre punti O con tre punti Senza tre punti Da 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 Il Bull bar Se volete La barra protettiva Davanti Insomma Ruote Con pesi Doppie ruote Normali Ovviamente Sempre la zavorra Se la volete Fino a 600 chili Il tre punti Poi si può cambiare Il colore E la targa Guardate quanto è carino Questo è decisamente Un po' più largo Dunque 75 cavalli 50 litri Di serbatoio 40 chilometri orari 3100 chili Il suo peso Questo già ce lo vedo Per lavoretti Anche un po' più pesanti Volendo Anche per un paio Di lavoretti Cioè Lo si potrebbe anche Utilizzare Credo Per Che so Col sarchiatore Quello piccolino Con quelle cose Un po' così Questo 58.500 euro 98 cavalli E 50 litri 40 chilometri orari 2 tonnellate E mezzo Di peso Anche qua Tre punti Oppure no Anche qua Il bull bar Oppure no La zavorra Pure qua E praticamente Simile a quello Di prima Cambia un po' L'aspetto estetico Cambia proprio Un pochino L'aspetto estetico Peccato che non hanno mai Messo la visuale Interna Nel negozio Così magari Lo si poteva inquadrare Anche dall'interno Poi Ci abbiamo a Tony Tony 72.500 euro 98 cavalli 50 litri Di serbatoio Sempre col cambio Variabile Continuo 40 chilometri orari 2 tonnellate E mezzo Pure lui Praticamente Anche questo E come a quello Di prima Sempre anche qua Bull bar E zavorra Quindi Cambia un po' Diciamo Cambiano un po' Nell'aspetto E cambiano un po' Nei cavalli Però alla fine Si assomigliano Questi ultimi tre Parecchio Si assomigliano Parecchio Questo forse Che è la stessa Identica cosa Solo che c'ha più Cavalli No No Questo è 100 chili Più pesante E A parte ciò Questo pesa 100 chili In più Di quello Precedente E Boh Non lo so Non mi sembra Molto diverso Ci sarà qualche Differenza particolare Ma come cavalli Come velocità Come serbatoio Vedo solo che Aumenta un po' Di peso In confronto A quello di prima Ovviamente Questo è TR Questo è SR Ma non so L'abbreviativo Di che cosa Questo è il TTR Vabbè Cambierà Sicuramente Nell'aspetto Più che altro Questo pesa 2 tonnellate 7 Anche lui 98 cavalli 80 litri Però Più capacità Questo c'ha Più capacità Di serbatoio 40 chilometri orari 2 tonnellate 2,7 2700 chili Anche qua O tre punti Oppure Bull bar Zavorra Pure qua Sempre da 600 chili Le ruote Vabbè Sono sempre Quelle Cambia Un po' Nell'aspetto Ma alla fine I cavalli Sono quelli C'è giusto Un serbatoio Più grande Di carburante E l'aspetto Insomma Che va A cambiare E qua Ci stanno Gli ultimi Due Praticamente Hanno tutti Massimo 98 cavalli Tutti quanti Questi qua Hanno 98 Cavalli La differenza Tra questi due Alla fine È Questo c'è Il cambio Manuale L'ultimo Questo variabile Continuo 50 litri 50 litri 40 chilometri Orari 35 chilometri Orari Questo c'ha I cingoli Dietro E le ruote E le ruote Normali Davanti Anche qua C'è Il tre Punti Anche qua Ci possiamo Mettere La zavorra Ma possiamo Configurare Peso O non Peso Davanti Anche qua C'è il Bullbar Eccosi E poi c'è Quest'ultimo Questo qua O ci mettiamo Il tre Punti O il Bullbar Ma io preferisco I tre Punti E volendo Anche la zavorra Davanti Allora Questo lo voglio Prendere a noleggio Per ora Per ora Ah già Quello l'ho comprato L'ho comprato Quello vero No Mi sono dimenticato Di una cosa importante Che ovviamente Me l'hanno data In anteprima Ma ovviamente Se compro una cosa Poi non posso più Come dire Cioè Perché mi ti caccio Per dire Non ce l'hai in anteprima Quindi non posso Giocare con lui Se adesso uso Se compro uno Di questi mezzi Vabbè C'ho tanto Un'altra serie Mizzica 5.000 euro Per noleggiarlo Ah famo una cosa Va a sto punto Lo compro Poi giustamente Mi ti caccio Mi ti caccio Compra sto DLC Mi raccomando Se no qua Non giochi più Che te devo di Allora Lo compriamo Allora Tre punti Zavorra Davanti Compra Compra Avanti Vai Buona Va bene Ovviamente A questo punto Però facciamo Una cosa Vendiamo E questo qui Sinceramente Oh no Me li tengo Per ora Boh Me li tengo Ma che ne so Anche perché Questo va a metano E pare un peccato Toglierlo L'unico trattore A metano Che ho E va bene Allora Ok Allora Praticamente Devo un attimo Ormai facciamoci Quest'ultima striscia Perché praticamente Stavo appunto Fertilizzando Qua Stavo appunto Fertilizzando Quindi Allora Diciamo che Su tutto Quello che V'ho fatto Di tutto Quello che V'ho fatto Vedere Ne proviamo Giusto Due Di cose Di mezzi Allora Questo per ora Boh Non lo so Lasciamolo un attimo Qua Poi vediamo Allora Vediamo un po' I nostri mezzi In giro Perché devo capire Che devo fare Ma tu Che stai a fare Ah già è vero C'avevamo anche La missione Sul 57 Me ne stavo Scurdando Comunque Ho visto i commenti Che mi avete lasciato Ragazzi Ma vedrete Tonicchi Addirittura Unisci i terreni Ma i terreni piccoli Li voglio proprio vendere Li vorrei proprio vendere I terreni piccoli In caso E compriamo Quelli grossi E' meglio Perché anche se Li uniamo Rimangono comunque Tutto sommato Piccoli Quindi Che me cambia Sembro scomodo Eh Allora Poi vabbè Ti devo rimandare In farm Ancora Devo trovare Gli ultimi Cosini In questa mappa Ancora in questa mappa Non ho trovato Gli ultimi collezionabili Che saddo cavolo Stanno Boh Me ne son ricordato Mo perché sotto A questo ponte Qualche tempo fa Ne ho trovato Un paio Oh Contratto finito Bene Campo 57 Soldi Vabbè soldi Si fa per dire Allora Che poi C'avete ragione A proposito Di commenti Ma avete anche detto Nicchi Ma ti sei dimenticato Gli altri alberi Mannaggia E' vero Mi sono dimenticato Questi alberi qua Peccato che Già ho restituito Il macchinario Eh Mobo Però sapete una cosa Ho notato Che forse Che non so Cresciuti Al massimo Perché Comunque Mentre che tagliavo Quelli Mi sembravano Un po' Corti Può essere Che ancora Questi alberi Non so Proprio maturi 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 Perché Io credo Che ancora Possono Crescere Di più Quindi vabbè Ormai Li lasciamo Sta Qua comunque Abbiamo quasi Finito di seminare Allora Oh andiamo a vedere Sta roba che ho Comprato Ma dov'è Oh Ma dov'è Ma non l'ho Comprata Ah Finalmente Stavo a dimacchina La trovo più Allora Quindi Questo qua Può Trasportare Questo qua Può trasportare Poco O meno Di mille litri Questo trasporta Poco meno Di mille litri Dietro C'è anche Il gancio Per collegarci Magari Un piccolo Carrellino Lì c'è L'altro Trattore Che abbiamo Comprato Vediamo Vado ad accendere Anche qua I fari Va Che Sono belli Allora Ovviamente Adesso andiamo A provare Il tutto Adesso andiamo A provarli Intanto Volevo giusto Farveli vedere Un po' più Da vicino Accendi Antonio Antonio Carraro Va che roba Va quanto è bello Visuale in prima persona Corre Cammina Cammina Anche veloce Claxon Non lo sento Proprio Claxon Tanto per dire Io manco lo sento Quando lo Lo uso Abbiamo anche Un po' di Tettuccio Panoramico Qua Fico Siamo anche Parecchio Indietro Col sedile Abbiamo Un mucchio Di visuale Qui davanti Lampeggiando Acceso Allora Dove era Terreno 52 In teoria Salvataggio In corso Va benissimo Qual è il terreno Dove ci abbiamo Noi No 51 51 Vai Ok Te hai finito Ne sei sicuro Ora poi vediamo Allora andiamo a prendere anche l'altro Anche se non so che farci A dire la verità Perché olive Uva Non ne abbiamo Oh e questo qua Mamma mia Tutto in giro Sparpagliato Si può Oddio Lol E a che me serve I nastri Non ci sono Vediamo un po' Lato di scarico Indietro Ok Roll bar Roll bar Pieghevole Altra roba Non ce n'è Quindi dietro È proprio Un mini Cassone Vediamo se c'è del pane Qua Oddio Vediamo se c'è del pane No niente Ho già tolto tutto Qua Volevo provare Magari con un pallet A trasportarlo Vabbè ma comunque i nastri Non ci stanno Bisogna prima Cambiarlo Va Così non è fatto Per collegarci Pallet Allora E andiamo quindi A provarlo C'ho da Da continuare C'ho da Continuare Qui con L'atomizzatore Gira 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 Aspetta Ma qual è Il buco giusto Non è che è facile Capirlo Fertilizzato Qua pare di no Aspetta Me so Me so Già perso A voi pare Facile Non si capisce Mica Vai Antonio A posto Ragà E quindi Ora abbiamo Più scelta Per quanto riguarda Uva e olive E mo Devo anche Infilarmi Nel buco Giusto La parte complicata E ricordarsi Qual è Ah o meglio La fila Giusto In quale fila Ecco peccato Comunque Che ancora Non hanno Trovato Il modo Magari Di 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 Mettere Un Un operaio Che fa La cosa In automatico Allora Allora Questa è la fila Giusta Visuale In prima Persona Si vede A malapena Che stiamo Spruzzando Ok No eh Completamente Questo Questo terreno Davanti È tutto Tranne Che è Facile Ok Andiamo Anto Che miseria Complicato E qua Nesnodabile Vai Antonio Il nostro Carraro Allora Vorrei anche Provare L'altro Mezzo Che abbiamo Preso Ovviamente Uva Non ce n'è Quindi Posso provare A vedere Se carica Anche altre Cose L'unica Cosa Che posso Fare Insomma L'unica Cosa Che possiamo Fare È provare A caricare Qualcosa Di diverso Magari Ci riusciamo Allora Va Bene Andiamo A vedere L'altro Mezzo Ma io Qua Dico Hai fatto Tutto 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 Ma pare Di sì Dai Da che parte Lo mando In farm Da qua Non lo so Se ma Sì Forse Manca Ancora Qualche Terreno Da lavorare Vediamo Dove Rimando Vediamo Dove è rimasto L'altro Vabbè Oh Ah Qui dentro C'è L'argento Ancora Vero Ero andato A prenderlo Me ne Sono Dimenticato Allora Miniera Che poi Andiamo A pigli All'altro Argento Intanto Vedo Un mucchio Di Pallet Di Uova Scarichiamo St'argento Poi Quando Arriva Il momento Lo andiamo A vendere Boom Ok Allora Torna Alla Miniera Che sicuramente Abbiamo ancora Un bel po' Di Argento E Ora Non lo so Possiamo provare Tipo a caricarci Sopra un po' Di erba Se la prende Non so Se è solo Per Non so Non credo Sia solo Per uva E olive Perché di Solito Quando è così C'è il simbolo Addirittura Giù Giù sotto Io penso Che carica Un poco De tutto Vediamo E di Fatti Carica Tutto Ok Carica Anche Il frumento Quindi Se avete Un paio Di galline Raga Potete Anche Dar Da mangiare Alle galline Se avete Qualche gallina Vi pigliate Antonio E andate Allora Qua Devo Spostare Sto Pallet Lato Di Scarico Sinistra E Scariciamo Anche Fatto Un piccolo Mezzo Vediamo se è Possibile Anche Collegare Questo Cassone Magari Vedessi Qualcosa Bene Quindi Raga E' possibile Anche Collegare Cassoni Un po' Più Grandi Ovviamente Senza Troppe Pretese Non Non Bisogna Avere Troppe Pretese Perché Comunque Voglio Dire Sto Cassone E' Tre Volte Più Grosso Del Nostro Veicolo Quindi BAM Lasciamolo Qua Prima Che Gli Affonda Il Motore Nuovo Nuovo Posso Andare Così A dare Un po' Di Cibo Alle Come si Chiamano Alle Pecore Alle Nostre Care Pecore Scarica Ora Vorrei andare A fare La Prova Vorrei Andare A fare Una Prova Con La Questione Pallet Voglio Vedere Quanti Pallet E' Possibile Mettere Qua Sopra Ovviamente Non è Autoload Questa Mod Ovviamente Non ha L'autoload Magnate Magnate A posto Ok Andiamo A trasformare Questo Piccolo Veicolo In un Veicolo Per Trasporto Pallet Sembra Quasi Di Guidare Un Go Kart Vero Sembra Proprio Un Go Kart Quasi O Anche Una Macchina Da Formula Uno Uno Queste Ruote Così Diciamo Belle Visibili No Da Quella Impressione Allora Vediamo Di Farti Una Modifica 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 Configura Ampliamento No Come si fa Ah La Piattaforma Piattaforma Ampliamento Senza Ampliamento Era diventato Tipo Tutto Scuro No Configura Ok Ah Ok Dai Vediamo Vediamo Quello Che ci Entra Qua Dietro Raga Vediamo Il nostro Piccolo Antonio Andiamo A fare Una Prova Con Le Uova Eh Ok Se magari Non mi Scivono Dalle Mani Allora Così Ce ne Entra Massimo Un Pallet Ma Messo Così Diciamo Che Così Ce ne Entrano Già Due Mo Il Discorso È Ok I Nastri Ci Stanno E Dietro Eh Dietro Dietro Sbatte Qua Ovviamente Quindi Dietro Diciamo Che non è Proprio Perfetto Per i Pallet Cioè Nel senso Va bene Ma non ce ne Trasportate Tanti Va bene Per i Pallet Ma Non Tantissimi Direi Giusto Sei Pallet Alla Volta Perché Comunque Voglio Dire Qua Vedete Il peso Come Spinge Verso Il Basso Il Veicolo Magari Si Ce ne Vanno Anche Di Più Il Problema È Che Non Si vede Mica Bene Ok Uno Lo mettiamo Dietro Ok Ok Vabbè Ci potete Trasportare Circa Nove Pallet Di Uova Però Già Vedete Che fa Fatica A muoversi E poi Soprattutto Proprio Oddio C'ha le Sospensioni Propri A terra Dietro Le Sospensioni Sono Propri A terra Già Lo Si Vede E Quasi Quasi Che C'ha Voglia Pure Di Ribaltarsi Quindi Magari L'ideale È Trasportare Sei Pallet Non Nove Perché Proprio Fa Fatica Ok Più Che Altro Mi Sa Che È Il Peso Fa Fatica Fa Fatica Allora Andiamo A Scaricarli Qua Che Fa Tanta Fatica Poverino Dai Forza A posto Insomma Questo è buono Per trasportare Non troppe Cose Troppe Cose Insieme Fa Tanta Fatica Va Bene Ragazzi Purtroppo Vedo Che Il Tempo Come Sempre Vola Quindi Penso Che Per Ragazzi Spero Che Gameplay Vi Sia Piaciuto Come Sempre Vi Ricordo Di Iscrivervi Al Canale Di Attivare La Campanellina Condividete Il Video Se Vi È Vi